Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Un amore litigioso ma da cui non ci si riesce a distaccare, un patto di coppia bizzarro, oscuro e dai risvolti imprevedibili, una mente manipolatrice che spinge al limite quelli altrui, ecco alcuni ingredienti che compongono il caso di oggi. Kelly Cochran nasce il 5 giugno 1982 a Merrillville e cresce a Hobart, entrambe situate nello stato dell'Indiana, dove vive con i suoi genitori, Tim e Melanie Gaboian, e i suoi due fratelli più piccoli, Colton e Tammy. La protagonista di questo caso si rivela un soggetto problematico fin da bambina, infatti sua madre fa davvero fatica a gestirla. Kelly ha un carattere conflittuale, ribelle, per nulla condiscendente. In pratica assume l'atteggiamento esattamente opposto a quello che i suoi genitori la esortano ad avere. Più cresce, più dà filo da torcere a Tim e Melanie. Infatti una volta diventata adolescente, Kelly si caccia sempre nei guai. A scuola litiga con chiunque, che siano compagni o insegnanti, quindi spesso viene rispedita a casa. Altre volte invece è lei che decide di marinare le lezioni. Ma non solo. Kelly, spesso, scappa anche da casa e sparisce per giorni interi. Dunque i suoi genitori sono costantemente preoccupati per la sua incolumità. Non sanno mai se Kelly sarebbe tornata a casa dopo la scuola. Quando si verificano queste fughe, Tim e Melanie coinvolgono sempre le autorità, che si mettono alla ricerca della ragazzina, e la ritrovano ogni volta a vagare per strada, senza meta. Così la trascinano di nuovo a casa. Di tanto in tanto Kelly va a stare a casa di una sua amica, i cui genitori però non sono molto presenti, quindi nessun adulto controlla entrambe. È evidente. Kelly ci prova gusto a mettersi nei guai, ama attirare l'attenzione su di sé, ma allo stesso tempo le piace anche stare per conto proprio e considerarsi indipendente. Ma in realtà indipendente non lo è affatto, tanto che già così giovane si lega all'uso di sostanze. Le prova tutte durante la sua adolescenza, compreso l'alcol. La sua sperimentazione comincia proprio dalle bevande alcoliche, alternate alle sostanze leggere che consuma ogni tanto, per poi passare a quelle pesanti un po' più avanti nel tempo. Kelly in futuro rivelerà che assumeva qualsiasi sostanza su cui riuscisse a mettere le mani. I suoi genitori fanno del loro meglio per aiutarla a liberarsi dalla dipendenza e per guidarla nella giusta direzione, ma Kelly si rifiuta e non gradisce il loro supporto. È una manipolatrice e anche una bugiarda, per cui Tim e Melanie arrivano a dubitare di ogni singola parola da lei pronunciata. Infatti, molto spesso Kelly afferma di aver chiuso con le sostanze, ma mente. Lei sa come raggirare i suoi genitori e gioca con le loro emozioni, promettendo costantemente, ma in vano, di cambiare atteggiamento. Solitamente, durante le cene, Kelly è sotto l'effetto di sostanze, quindi barcolla sulla sedia, spesso perde i sensi e finisce con la faccia nel piatto, oppure annuisce qualsiasi cosa le dicano i genitori, ma in verità è assente. Non capisce neanche quello che le stanno dicendo. Sua madre Melanie non ne può più, ha due bambini più piccoli da crescere e teme che il comportamento della figlia maggiore, con quelle abitudini malsane, li possa influenzare. Così, quando Kelly compie 18 anni, sua madre le dice che deve fare le valigie e andarsene. Potrà tornare a casa quando si sarà ripulita davvero. Anche se stenterete a crederci, Kelly riesce a diplomarsi alle scuole superiori con il massimo dei voti, nonostante durante le lezioni non fosse poi così attenta. Dopo la maturità, le informazioni disponibili sulla vita di Kelly sono piuttosto vaghe. È certo che non abita più con i suoi genitori e che, nonostante i problemi di dipendenza, riesce comunque a frequentare la Purdue University e a laurearsi in psicologia e sociologia con una specializzazione in medicina legale. I suoi insegnanti la considerano una studentessa molto dotata, davvero intelligente dal punto di vista accademico. Le basta applicarsi poco per rendere come la migliore della classe, ha un talento naturale per l'apprendimento. Durante il periodo dell'università, Melanie chiede alla figlia di tornare a vivere a casa. La nonna di Kelly è venuta a mancare e sua madre sta vivendo un momento particolarmente difficile. Soffre molto, questo lutto la sta facendo riflettere sull'inesorabilità della vita. Ora Melanie spera di poter dedicare maggior tempo ai suoi cari, vuole quindi riunire tutta la famiglia riavvicinando Kelly. Dal canto suo la figlia vuole pensarci su, più che altro si chiede cosa potrebbe ottenere da questa situazione. È una cosa che Kelly fa in continuazione, ragionare su come trarre un vantaggio in qualsiasi contesto. Infatti, Kelly dice a sua madre che è disposta a tornare a vivere insieme a loro, ma a patto che venga rispettata questa condizione. Anche il suo ragazzo deve trasferirsi con lei nella casa di famiglia. Il fidanzato di Kelly si chiama Jason Cochrane. Ha quattro anni in più di lei e vive già nei pressi della famiglia Gaboian, anche se non hanno mai parlato prima. Siccome Melanie desidera con tutta se stessa che Kelly torni a vivere a casa con lei, permette anche a Jason di trasferirsi lì. Tuttavia, quando lo conosce, lui non le suscita una buona impressione. Quindi la relazione tra quest'uomo e sua figlia non la rende serena. La coppia è estremamente instabile. I due litigano sempre, si lasciano e poi si rimettono insieme, infestando la casa con un'atmosfera carica di tensione. Melanie intuisce che un lato violento si annida nel temperamento del fidanzato della figlia. Anche se è un po' latente perché Jason non lo rivolge mai contro Kelly e gli altri membri della famiglia. In realtà nella coppia è Kelly il soggetto dominante, è lei che fa la prepotente e si infervora, mentre Jason prova ad assecondarla più che può. È arrendevole perché l'adora in maniera quasi morbosa. La famiglia di Kelly, soprattutto Melanie, interviene nelle discussioni della coppia, cercando di far ragionare la ragazza. Che senso a stare insieme se ognuno tira fuori il peggio dell'altro? In una relazione sana dovrebbe avvenire il contrario, valorizzando i pregi e il benessere del partner. Forse è il caso di lasciarsi? Perché all'equestero sono parole che cadono nel vuoto, infatti si rifiuta di prendere anche solo in considerazione l'idea di rompere con Jason. Nonostante le liti, lei crede che siano fatti l'uno per l'altra, che siano addirittura perfetti insieme. Così, il 14 settembre 2002, Kelly, contro il volere di quasi tutti i membri della sua famiglia, sposa Jason. I due hanno organizzato un matrimonio semplice, si sposano in chiesa e amici e parenti si limitano a partecipare alla funzione religiosa. La prima notte di nozze, qualche ora dopo aver pronunciato i voti nuziali, Kelly e Jason si ritrovano da soli e stringono quello che definiscono un patto di sangue. L'inquietante accordo prevede che se uno dei due sposi avesse tradito l'altro, proprio l'adultero avrebbe dovuto uccidere l'amante. Dopo le nozze la coppia vive un periodo felice, si sposta dalla casa dei genitori di Kelly e si stabilisce in un'altra abitazione a Hobart. Kelly e Jason avviano un'attività di manutenzione di piscine e si divertono a lavorare insieme. Insomma, tutto sta andando davvero alla grande. Ma il tempo scorre, passano i mesi, poi gli anni e le cose cambiano. La nuova fonte di tensione nel rapporto tra i coniugi è la salute mentale di Jason, che ha cominciato a soffrire di depressione, dunque il suo umore è molto basso. Jason però è aperto riguardo a questi problemi, li confida a Kelly per affrontarli insieme, ma lei, al posto di stargli vicino, di confortarlo e rassicurarlo, lo respinge. Si allontana, non vuole prendersi la briga di gestire le afflizioni di Jason. Gli si oppone con forza, lo spinge oltre il limite, provocando in lui degli stati d'animo davvero demoralizzanti. In sintesi, Kelly non solo non gli dà supporto, ma contribuisce al peggioramento della sua condizione. Jason, a lungo andare, è irritato dal comportamento di Kelly, che conosce i suoi punti deboli e sa bene dove colpirlo. Sua moglie, è molto triste dirlo, infierisce solo per divertimento, per sfidare il margine della sua sopportazione. Kelly si prende gioco di Jason per via della sua depressione. Di certo, questa è una situazione in cui nessuno vorrebbe ritrovarsi. Jason sta già lottando per riuscire a stare meglio e l'ultima cosa di cui ha bisogno è sentirsi deriso dalla persona che ama. In questo ambiente domestico già tossico, la situazione si aggrava quando Jason, dopo anni di lavoro dedicati all'attività di manutenzione di piscine, subisce un infortunio piuttosto importante. Allora, cede completamente. L'infortunio compromette il nervo sciatico, quindi Jason non riesce né a lavorare né a camminare al meglio e ha difficoltà durante i rapporti intimi, aspetti che scatenano un'altra serie di problemi. La coppia si indebita molto perché i guadagni che riesce a conseguire Kelly da sola non sono sufficienti. Jason, astento, esce di casa, quindi anche socializzare con altre coppie diventa impossibile e il risentimento che Kelly nutre nei confronti di suo marito aumenta. Lui di conseguenza si sente sminuito, inutile, arriva a odiare se stesso perché non può più provvedere al benessere di sua moglie e si lascia investire dal senso di colpa. Ormai Jason e Kelly litigano di continuo proprio come all'inizio della loro relazione. Un giorno la situazione diventa così ingestibile che Jason tira fuori una pistola e la punta contro Kelly. In realtà l'arma non è carica, ma Kelly crede che Jason si fosse semplicemente scordato di inserire i proiettili. Non pensa che quello del marito sia stato un gesto dettato da un crollo nervoso, è convinta che lui volesse ucciderla. Ma nonostante questo i due decidono di rimanere insieme. Non riescono proprio a lasciarsi, anche se quella che hanno instaurato è una relazione di amore e odio. Tuttavia, entrambi sanno che non possono andare avanti così, qualcosa deve cambiare nelle loro dinamiche di coppia, devono trovare il modo di ricompattare la loro relazione. Così decidono di trasferirsi a Caspian, nella penisola superiore del Michigan, una zona ricoperta di foreste circondata da laghi, appena a sud del confine canadese, dove fa molto freddo e gli inverni sono lunghi e spesso nevosi. Questo territorio, in sostanza, è ritenuto piuttosto sfavorevole all'insediamento umano, infatti solo il 3% della popolazione dello Stato vive qui. Si può immaginare che Kelly e Jason stiano affrontando un cambiamento drastico, infatti le persone che li conoscono non si spiegano come mai abbiano deciso di stabilirsi proprio lì. La motivazione che i coniugi possono fornire è che, dopo aver accumulato tanti debiti, Kelly reputa conveniente darsela a gambe e rifugiarsi in un altro Stato. Inoltre, nel Michigan superiore sono in vigore delle leggi più vantaggiose sul consumo della sostanza leggera, che Jason deve assumere spesso per curare il suo mal di schiena. La coppia quindi prova a rincominciare, a concedersi un nuovo inizio, ma non passa molto tempo prima che entrambi tornino alle vecchie abitudini. Kelly è costretta a destreggiarsi tra diversi lavori per sbarcare il lunario, mentre Jason non può sforzarsi, quindi rimane a casa, dove fa uso della sostanza leggera per tutto il tempo, mangia a dismisura e si intrattiene con i videogiochi. In realtà, per quanto sia impensabile, Kelly è piuttosto soddisfatta di questa situazione. mi spiego. Le piace che Jason sia bloccato a casa tutto il giorno, isolato, affogato nella sua depressione. Intanto lei cosa fa? Coltiva la sua nuova vita, va spesso in giro e si fa gli affari suoi, però deve comunque far pesare la situazione a Jason. Continua a manipolarlo e a sminuirlo, a farlo sentire inutile dato che non è in grado di fare nulla. Probabilmente Kelly non ama più suo marito, non apprezza il tempo da trascorrere con lui, ma Jason rappresenta comunque una certezza. L'aspetta sempre a casa quando lei rientra, è lì per lei, come una confortante coperta adagiata sul letto. In realtà è in un altro letto che Kelly, presto, inizia a intrattenersi, intrecciando una relazione extraconiugale alle spalle di Jason. Nello specifico frequenta il cinquantenne Christopher Regan, detto Chris, un uomo felice e volenteroso. Chris è già stato sposato in precedenza per 28 anni e ha due figli. Dopo la fine del suo matrimonio si è trasferito nel Michigan superiore per riavvicinarsi a un'amica di nome Terry O'Donnell. I due si sono anche frequentati per un po', ma la loro relazione è finita presto. Dopodiché Chris ha incontrato Kelly, perché sono colleghi di lavoro in una fabbrica che produce parti di navi militari. I due sono entrati subito in sintonia e hanno iniziato a vedersi. Anche se in azienda già spettegolano sulla loro simpatia, all'inizio gli amanti decidono di mantenere un profilo basso. Nascondono la relazione, perché ovviamente Kelly non vuole che Jason scopra che lei lo tradisce. Tuttavia, dopo un po', quell'avventura sta diventando una storia seria. Chris e Kelly si stanno innamorando, tanto che iniziano a vedersi quotidianamente. Kelly va spesso a casa di Chris dopo il lavoro, cenano, guardano diversi film e passano addirittura la notte insieme. Kelly però, alla fine, torna sempre da Jason, anche se lui ormai sospetta del tradimento della moglie. Ciò nonostante si sente impotente, ha la sensazione di non poter far nulla per impedire che la relazione continui. Kelly lo ha sminuito davvero tanto, facendo leva anche sulla sua incapacità di soddisfarla tramite rapporti intimi. Quindi Jason pensa che sua moglie abbia bisogno di sfogarsi, di stare con un uomo che possa darle quello che lui non è più in grado di offrirle. Dunque, dopo la scoperta del tradimento, Jason sprofonda in una depressione ancora più dolorosa. Come al solito, Jason parla apertamente a Kelly della sua condizione. E come al solito, a lei non importa nulla. Che noia, questi discorsi deprimenti di Jason. Ormai non vuole nemmeno che cominci a pronunciarli. Ormai è chiaro, a Kelly importa solo di se stessa. Porta quindi avanti la sua relazione con Chris, indipendentemente dal malessere di Jason. Purtroppo per Kelly, anche la storia con Chris sta per volgere al termine. I due in effetti sono usciti insieme per un po' di tempo, ma adesso lui ha capito di aver bisogno di un nuovo inizio. Ha trovato un lavoro nella Carolina del Nord e vuole trasferirsi lì. Quando Kelly lo viene a sapere, rimane scioccata. Questa scelta del suo amante le spezza il cuore, ferendola in profondità. In pratica, come immaginerete, Kelly non prende affatto bene la notizia. Anche perché lei vuole che tutto accada in base alle sue condizioni. Kelly non vuole essere lasciata. È lei che decide quando troncare una relazione. Quindi come può consolarsi? Beh, intanto torna da Jason come ha sempre fatto e gli dice che vuole dare un'altra possibilità al loro rapporto perché sente che è speciale. Devono lasciarsi anche quest'ultima esperienza alle spalle e ricominciare da capo. Durante una serie di lunghe conversazioni, alla ricerca di soluzioni, salta fuori il patto di sangue. La coppia arriva così alla terribile conclusione che per salvare il matrimonio bisogna necessariamente uccidere Chris Regan. Non verrà mai a galla chi dei due sia stato la forza attrainante dietro questo piano omicida, ma il mio istinto mi porta a supporre che l'artifice sia proprio Kelly. Come me, in realtà sono in molti a pensarlo, visto che era lei la figura dominante della coppia. Jason, per tutto il matrimonio, ha semplicemente assecondato le sue richieste. Inoltre, prima che Kelly venisse lasciata da Chris, Jason sapeva già della loro relazione, ma non aveva espresso la volontà di uccidere l'amante della moglie. Perché desiderarlo solo adesso? Il patto di sangue con ciò che comporta entra in gioco appena Kelly ha scoperto che Chris intende trasferirsi e in automatico porre fine alla loro relazione. Kelly vuole vendetta e, stando alla clausola del patto di sangue, dovrebbe essere lei ad uccidere l'amante, non il marito. Ma Kelly non vuole sporcarsi le mani, quindi riesce a convincere Jason a vestire i panni dell'assassino. A questo punto i due iniziano a elaborare un piano per compiere il delitto. Decidono che sarà Kelly ad attirare Chris a casa loro con la promessa di avere un rapporto intimo. Poi, una volta consumato l'atto, Jason farà irruzione nella stanza e sparerà a Chris. È assurdo pensare di compiere un assassino nell'obiettivo di salvare un matrimonio, tra l'altro in crisi fin dagli albori. Inoltre, Chris ha già deciso autonomamente di sparire dalla vita di Kelly e per sempre, visto che sta per trasferirsi nella Carolina del Nord. In ogni caso, la mattina del 14 ottobre 2014, Kelly invia a Chris un sms in cui lo invita a casa sua. Gli dice che avrebbe preparato una cenetta per lui e che poi avrebbero passato una bella serata insieme. Chris acconsente, è convinto che avrebbe visto Kelly per l'ultima volta e che, quindi, lei abbia organizzato un appuntamento speciale da Dio prima della sua partenza. Chris arriva a casa di Kelly alle 16.30, parcheggia la macchina all'esterno ed entra. Una volta nell'abitazione, Kelly non menziona più la preannunciata cena, ma gli si avvicina per sedurlo e portarlo a letto. Chris ignora che Jason è in agguato nell'ombra. Infatti, pochi istanti dopo, mentre lui e Kelly si intrattengono sotto le coperte, il marito tradito sbuca nella stanza e gli spara la nuca, uccidendolo all'istante. Dopo l'omicidio, Jason e Kelly hanno un rapporto intimo. Era da anni che non dormivano più assieme, a causa dei problemi di salute di Jason, ma il delitto di Chris ha reso entrambi euforici, al punto che consumano l'atto proprio accanto al cadavere della vittima. Dopodiché, Kelly si concentra su come farla franca. Non prova né rimorso né sensi di colpa, ma come al solito si preoccupa solo di se stessa. Quindi comincia a pulire la scena del crimine, mettendo a frutto i suoi studi in medicina legale. Prima di tutto, Kelly e Jason spostano il corpo di Chris nel seminterrato, poi puliscono insieme tutta la casa, da cima a fondo. In seguito, Kelly sale a bordo dell'auto di Chris, parcheggiata fuori dalla sua abitazione, e guida fino a un parco a circa 30 miglia di distanza. Contemporaneamente, Jason va a casa del vicino e gli chiede in prestito una sega elettrica. Jason passa la notte intera a smembrare il corpo di Chris, e i vicini sentono il rumore ininterrotto del macchinario. Ma nemmeno il giorno dopo, i vicini hanno un po' di tregua, perché adesso avvertono un odore disgustoso, e purtroppo sia io che voi sappiamo di cosa si tratta. Infine, i vicini vedono Jason che sta bruciando qualcosa in un barile. Finora avrete pensato che questo caso sia aberrante? Ecco, sappiate che adesso diventa ancora più macabro nella sua assurdità. Non molto tempo dopo, infatti, Jason e Kelly decidono di organizzare un barbecue per il vicinato. Questo in realtà è un evento insolito, visto che la coppia se ne stava sempre per conto proprio. Ma se vogliono socializzare, perché rifiutare l'invito, no? Dunque, quando gli ospiti arrivano per il barbecue, notano che i Cochrane stanno per servire una quantità enorme di carne, tanto che uno di loro ipotizza che avessero speso circa 200 dollari per procurarsela. I vicini, però, sanno che Kelly e Jason non hanno molti soldi, dunque si chiedono da dove arrivi tutta questa carne e come abbiano fatto ad acquistarla. In ogni caso Jason cuace la carne, ma quando i vicini la assaggiano si rendono conto che ha un sapore strano. Jason si giustifica immediatamente mentendo. Spiega che lavora in una macelleria specializzata in carne esotica, almeno lui la definisce così, per non dire chi ha preparato il barbecue con la carne della loro vittima, ossia Chris. Devo però sottolineare una cosa importante. Non verrà dimostrato al 100% che i Cochrane abbiano servito agli ospiti la carne della loro vittima, ma gli investigatori che si sono occupati del caso e i vicini di casa sostengono proprio questo. Ad ogni modo Kelly al momento pensa che non ci siano elementi in grado di collegare la sparizione di Chris a lei. Non so perché sia così sicura di essere insospettabile, considerando che in molti sanno che lei e Chris hanno una relazione clandestina. Ma nessuno, inizialmente, pare rendersi conto che Chris sia scomparso. Una prima segnalazione a riguardo arriva alla polizia a distanza di ben due settimane dall'omicidio. Gli investigatori però impiegano poco a scoprire della relazione extracognugale tra Chris e Kelly e ritengono che lei o il marito tradito hanno un potenziale movente, quindi ben presto vanno a bussare alla porta di casa Cochrane. Portano Kelly in centrale per interrogarla e intuiscono subito che qualcosa non va. La donna è molto evasiva e si contraddice, racconta alcuni particolari sulla scomparsa di Chris, che risultano palesemente falsi. Sono menzogne. La coppia diventa la principale sospettata dell'omicidio di Chris, ma purtroppo le indagini procedono a rilento. Kelly è riuscita a coprire bene le sue tracce, quindi anche se i detective sospettano di lei e del marito, non sussissono ancora delle prove per incriminarli, dunque arrestarli e accusarli. Passano addirittura dei mesi. Poi, finalmente, le indagini consentono di raccogliere delle prove emerse analizzando il cellulare di Kelly e quello del suo amante scomparso, Chris. Gli investigatori si rendono conto che nel pomeriggio del 14 ottobre 2014 i cellulari di entrambi sono localizzati nella stessa zona. Inoltre vengono individuate delle tracce di sangue a casa dei Cochrane. Ancor più, i detective riescono a ottenere le testimonianze dai vicini di casa, i quali raccontano di aver sentito i rumori della sega elettrica in tutta la durata della notte a cavallo tra il 14 e il 15 ottobre. Infine, i vicini riferiscono anche di quello strano barbecue a base di carne esotica, però proprio mentre gli investigatori stanno arrivando alla conclusione del caso, Kelly e Jason si trasferiscono. Tornano nell'Indiana, sono scappati perché sapevano che il loro tempo da persone libere stava per scadere. Ora che si sono rifugiati in un altro stato, le indagini della polizia del Michigan divengono più difficoltose e rallentano ancora. Che ne è quindi coinvolto l'FBI affinché la coppia non rimanga impunita. Passa ancora altro tempo, ormai sono trascorsi 16 mesi dall'omicidio di Chris, ma l'FBI e gli investigatori sono certi di essere sulla strada giusta. Presto avrebbero arrestato Kelly. Intanto l'indagata, forse per scongiurare i sospetti, è rimasta in contatto con i detective con cui si è scambiata dei messaggi. Li aveva addirittura avvisati quando aveva cambiato stato. Dunque, nel febbraio del 2016, gli investigatori le dicono che suo marito Jason sta per confessare. Sanno che lui non regge più la pressione ed è prossimo a crollare. Kelly, dopo questo avvertimento, si fa prendere dal panico. Crede che Jason stia tramando alle sue spalle, pronto a rivoltarsi contro di lei. E ovviamente non vuole che questo accada. Per impedire di essere accusata dell'omicidio di Chris, Kelly arriva alla conclusione di dover uccidere suo marito. Così, nella notte a cavallo tra il 19 e il 20 febbraio del 2016, Kelly somministra a Jason un'enorme quantità di una sostanza molto pesante, quella che si inietta. Dopo che il marito sviene, lei lo soffoca a morte. La mattina dopo chiama i servizi di emergenza e dice, salve, mi sono appena svegliata e mio marito è morto accanto a me. Kelly, in pratica, sostiene che Jason sia deceduto nel sonno. I paramedici la raggiungono a casa, controllano i parametri vitali dell'uomo e convengono che è effettivamente morto, quindi portano via il suo corpo. Tuttavia aprono un'indagine sul suo decezzo, perché questa sembra una morte sospetta. Infatti, analizzando il cadavere, gli esperti capiscono immediatamente di essere davanti a un caso di omicidio. Basta esaminare i segni intorno al collo di Jason. Per questo delitto c'è una sola sospettata. Kelly, la moglie della vittima. Gli investigatori dell'FBI che stanno ancora indagando sull'omicidio di Chris scoprono dell'assassinio di Jason e non hanno dubbi che la colpevole è Kelly. Devono assolutamente riuscire ad arrestarla. Potrebbero già accusarla di aver ucciso il marito, ma vogliono incriminarla anche per la morte di Chris, che però, tecnicamente, risulta ancora una persona scomparsa, dato che il suo corpo non è stato ritrovato. Così i detective pensano a un modo per velocizzare le indagini. Dicono a Kelly che Jason aveva lasciato un biglietto in cui confessa l'omicidio di Chris. E questo stratagemma funziona. Kelly è assolutamente terrorizzata da ciò che potrebbe essere scritto su quel biglietto. Ha paura che Jason abbia rivelato che anche lei è coinvolta nel delitto di Chris. Decide così di ammettere che il suo amante era stato ucciso da Jason, ma soltanto da lui. Il suo defunto marito aveva fatto tutto da solo. È un classico quello di incolpare una persona che non è più presente e quindi non può difendersi, ma questo per ora non importa. Anche se Kelly ha attribuito l'omicidio a Jason, ha comunque fornito sufficienti informazioni agli investigatori affinché loro riescano a individuare alcuni resti di Chris. Questo basta per accusarla sia dell'omicidio di Chris sia di quello di suo marito Jason. Il 14 febbraio 2017 inizia il processo di Kelly relativo all'omicidio di Chris. Kelly si dichiara non colpevole continuando a sostenere che l'unico responsabile fosse Jason. Tuttavia l'accusa è ormai in possesso di tantissime prove contro di lei. Gli inquirenti hanno scoperto che Kelly era il partner dominante della coppia e che in pratica aveva la propria di Jason. Era stata lei l'ideatrice del piano, era lei che aveva una relazione con Chris e non sopportava che lui volesse allontanarsi. La giuria concorda come se vince dal verdetto e Kelly Cochran viene condannata all'ergastolo per l'omicidio di Chris Reagan. Non molto tempo dopo questo processo Kelly patteggia riguardo all'omicidio di suo marito Jason e le vengono assegnati i 65 anni di carcere in aggiunta alla sua condanna. In seguito Kelly confessa entrambi gli omicidi ed è a questo punto che gli investigatori apprendono ciò che è realmente accaduto. Scoprono nel dettaglio il piano elaborato da Kelly e Jason per uccidere Chris e il patto di sangue che i due coniugi avevano suggellato dopo le nozze. Ma questa storia non si conclude qui. Dopo il processo infatti uno dei fratelli di Kelly, Colton, si fa avanti per parlare con gli investigatori intervenuti durante il processo. Spiega loro che in realtà nutre un agghiacciante sospetto. Secondo lui sua sorella è una serial. Potrebbe essere responsabile di un massimo di nove omicidi commessi in tutti gli Stati Uniti. Gli investigatori in realtà inizialmente reputano che il sospetto sia infondato ma poi riflettono sul fatto che Kelly era riuscita a dilungare le loro indagini per ben due anni. In quel periodo era sfuggita all'arresto, si era rifugiata in un altro stato e aveva ucciso anche suo marito. Forse c'è dell'altro che nasconde? Alla fine dunque i detective decidono di parlare con Kelly. Lei non smentisce le accuse, bensì confessa dicendo testuali parole. Ho seppellito corpi in tutti gli Stati Uniti tra cui Indiana, Michigan, Minnesota e Tennessee. Ormai Kelly sa che non può essere accusata di qualsiasi altro omicidio perché questo è ciò che prevede l'accordo del suo patteggiamento concluso per evitare il processo per l'omicidio del marito e in cui lei aveva ammesso di aver ucciso Jason. Dunque anche se le morti di altre vittime fossero riconducibili a Kelly, la pena che lei deve scontare rimarrebbe inalterata. So che questa è una clausola standard presente in tutti gli accordi di patteggiamento ma onestamente non la reputo giusta e questa è solo una mia opinione. Ad ogni modo le indagini su alcuni casi risolti vengono riaperte e la polizia finisce per sospettare fortemente che la colpevole sia proprio Kelly anche se non riesce a dimostrarlo oltre ogni ragionevole dubbio e malgrado la condanna dell'assassina non cambierebbe comunque. Trovo pazzesco considerare quante volte Kelly l'ha fatta franca. Sono passati ben due anni prima che gli investigatori riuscissero a incriminarla per l'omicidio di Chris. In quel periodo Kelly è stata anche in grado di ammazzare il marito Jason e adesso pare stiano emergendo ulteriori delitti per cui rimarrà impunita quelli di altri suoi presunti amanti. In quest'ottica mi chiedo perché Kelly abbia colpito ancora. Nella sua situazione è già compromessa che avrebbe commesso altri omicidi. In ogni caso non si sa con certezza se si è una serial o meno ma è sicuramente un'assassina fredda, astuta e calcolatrice. Ha pianificato l'omicidio di Chris in modo meticoloso. In realtà sono onesta non mi è ancora del tutto chiaro quale sia stato il ruolo concreto di Jason e la ragione del loro abominevole patto di sangue. Ad oggi possiamo disporre soltanto della versione di Kelly della storia ma in realtà Jason era convinto di voler uccidere Chris o era succube dell'influenza della moglie che esigeva il rispetto del patto suggellato in passato? In tal caso Jason oltre a essere un assassino sarebbe anche una vittima. Sì a mio parere Jason era vittima della manipolazione di Kelly ma di certo non lo si può considerare incolpevole visto che ha premuto lui quel grilletto togliendo la vita a un uomo innocente. Infatti l'unica vera vittima in questo caso è il povero Christopher Regan. Chris era un veterano dell'aeronautica militare che amava la vita dall'aria aperta. È stato descritto da chi lo conosceva come un uomo solare e attivo. Aveva due figli adulti con cui stava recuperando il rapporto tant'è che aveva deciso di traslocare anche per trascorrere più tempo insieme a loro ma la sua vita si è tragicamente interrotta all'età di 53 anni. Io ho finito di parlare di questo caso a mio avviso assurdo. Credo che sia davvero strano. Non comprendo il motivo del patto di sangue. Non comprendo fino in fondo neanche il motivo per l'omicidio. Perché commettere un omicidio per una vendetta di questo tipo onestamente la trovo inutile cioè sul serio. Davvero davvero inutile. Ho trovato molto interessante invece che Kelly fosse probabilmente una serial. Quindi mi chiedo quante persone potrebbe aver davvero ucciso. Quanti amanti ha avuto. Siamo certi che se ne sia andata dall'indiana solo per sfuggire ai debiti? Io non credo. Non credo proprio. In ogni caso fatemi sapere qui nei commenti cosa ne pensate di questo caso. Onestamente la parte che mi ha lasciato senza parole è stata la parte della carne esotica. Chiamiamola così. Rimango sempre parecchio turbata con quando c'è questo elemento nei casi. E assolutamente sono anche curiosa di sapere come vi dicevo la vostra opinione. Insomma come al solito ci becchiamo nei commenti perché questo è un caso strano particolare. Sono curiosa di sapere che cosa ne pensate. Noi come al solito ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi. Continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.